Seracusa allo storico liceo Tommaso Gargallo partecipa agli Erasmus Day. Liceo Tommaso Gargallo parteciperà alla celebrazione degli Erasmus Day 2022 dal 13 al 15 ottobre con l'evento Welcome Erasmus organizzato dall'auditorium dell'Istituto venerdì 14 ottobre e curato dalle docenti Noemi Bacci e Sofia Pulvirenti. Alle giornate Erasmus organizzate ogni anno in tutti i paesi dell'Unione Europea per promuovere le opportunità formative della mobilità Erasmus Plus e i valori della comunità europea il liceo Gargallo darà il proprio contributo coinvolgendo alcune classi terze dei suoi quattro indirizzi di studio classico, linguistico, musicale e coreotico. Tre studenti presentatori condurranno la manifestazione in lingua inglese introducendo i partecipanti ai momenti salienti che includeranno l'esecuzione dell'Inno Europeo da parte dell'orchestra d'archi guidata dal professor Antonio Greco. Un breve sketch in inglese e spagnolo-francese curato dalle docenti Giuliana Franca, Alessandro Iozzia e Laura Signorino la messa in scena della estranità che ci appartiene per la regia della professoressa Anna Desiree Coppola con coreografie di flamenco e tango curate dalle docenti Antonella Bruno e Agata Grasso. Durante l'incontro i presentatori condivideranno con il pubblico brevi pillole di cultura relativa al progetto Erasmus Plus e lo coinvolgeranno attivamente con un gioco interattivo su una piattaforma didattica. 8 studenti si alterneranno poi sul palco per proporre delle citazioni relative al tema del viaggio che saranno lette in italiano, inglese, francese e spagnolo.